Ciao ragazzi, siccome qualche giorno fa ho deciso di delapidare nuovamente il mio stipendio mi sono comprato queste due fantastiche premium collection di Lugia e oggi ce ne andiamo ad aprire una anche perché le trovate davvero scontate a un prezzo ridicolo e dentro ci sono una cosa come 11 bustine tra cui ossidiana infuocata, scarlato e violetto e paradosso temporale più queste carte promo fantastiche e una carta jumbo che non so dove metterò però da qualche parte la metterò direi subito di andare ad aprire questa fantastica collection che non sto più nella pelle ok, andiamo di ossidiana infuocata energia, combi, varum, larvitar, cleffa, dartrix, frogadier, stangfisk, rhyme reverse sotto abbiamo un mewile reverse e uno schizor olografico l'inizio non è dei migliori andiamo di uno scarlatto e violetto così magari droppiamo un garde war due volte energia, magicarp che cavolo l'ho vista adesso che ca... ok, questa la tengo da parte che strano errore va bene, ok, questa la teniamo da parte energy switch varum medicam quaxwell ciclizzas molibre verse dollibre verse e un coraidoni ex bellissimo devo dire molto molto figo altro giro altra corsa di ossidiana infuocata energia vultvix fatump whooper bexel haunstone camerapt cleidol reverse stini reverse sotto abbiamo un tandorus solamente oro proseguiamo altra ossidiana infuocata raulet ban bismoli pigi sharpido darmitan bon sweet reverse salazel reverse e uno scoviglien holo e tutta l'energia non avevo fatto il trick paradosso temporale stiamo andando velocissimi dunque perché ne abbiamo un sacco da aprire energia elekid vanillish onyx tinka tinka rork minor simipur yamask reverse scream tail reverse bellissimo e una rica trainer andiamo di altro paradosso temporale energia energia parasol lady porigone 2 octillery durant ethernet vessel medical energy spinda reverse pumpur reverse sotto un cien pao olografico per adesso non ci possiamo lamentare in realtà pullare abbiamo pullato incredibile andiamo ancora con il paradosso temporale energia charkadet flittle trabbish yimmigul zeb strike corcalor ambipom tulip reverse sotto abbiamo un tinkaton reverse e un iron jugulis olografico direi di andare adesso di ossidiana infocata sono gli ultimi tre pacchetti usiamo già a ritenerci in realtà abbastanza soddisfatti dei pull energia sanskit dalla rumaca frochi bansuit toadscruel solrock dagtrio crab brawler togekiss reverse molto carino e un entei olografico vai di scarlato e violetto si sa mai che troviamo qualcosa energia charkadet le chonk varum clancher la gola secca kati coraidon reverse sotto uncensi reverse e uno skelleridge solamente orografico paradosso temporale energia golbat larry yamsk sanskit stini gliscor absol gible reverse dooblade reverse sotto bombardier ex non male ultimo pacchetto di scarlato e violetto speriamo che sia qua il pull della vita anche se si è giudito energia clancher skid quaxley scuvet todd scuwell mousehold vitality band andor andor reverse pokeball reverse e un dondoso solamente holo quindi ricapitolando i pull sono stati questo coraidon ex bellissimo a valer mio questa rica fantastica e questo bombardier ex su 11 pacchetti poteva sicuramente andare meglio eccoci qua ragazzi allora il prodotto sicuramente è buono poi se lo trovate scontato come l'ho trovato io a una cosa come tipo 40 euro è sicuramente un oggetto da comprare poi è chiaro è tutta questione di fortuna però se avete voglia di spacchettarvi un po' di pacchetti questo in sconto è il prodotto giusto quindi che dire ragazzi il video può finire qua vi ricordo come sempre che se apprezzate il mio lavoro di lasciarmi subito un like di iscrivervi e commentare noi ci vediamo al prossimo video